Spiegatemi come ho fatto a pareggiare contro un ragazzo che aveva luscioni tra i titolari No, gli è entrato dalla macchina ma non mi interessa, aveva luscioni Uno e mezzo gli ha preso, uno e mezzo, ci ho pareggiato Il fantacalcio ti fa rimanere tranquillo, cazzata, cazzata E nell'altro fantacalcio, grazie Allegri, tra tutti i giocatori hai fatto entrare i piani C'è il 75esimo giusto in tempo per prendere il voto e metterlo al posto di Verdi Mannaggia a te, mannaggia Nella scorsa giornata di fantacalcio, dove vi ho portato io in concomitanza il video della rosa del fantacalcio di Youtube Che vi lascio qui sotto in descrizione del primo commento C'avevo un avversario che giocava in 10 uomini Questa giornata, chi giocava in 10 uomini? Io, il karma di merda Va bene ragazzi, a parte gli scherzi, proviamo a raggiungere i 1000 like per questa serie del fantacalcio So che in questo momento Youtube ha dei problemi, ci sono meno persone che guardano i video Tanti canali hanno dei problemi con le visualizzazioni Quindi ragazzi, almeno 1000 like proviamo a raggiungerli Anche perché mi dovete essere vicini in questa avventura, la mia prima avventura del fantacalcio Che già non si sta mettendo bene Perché questa giornata, altro pareggio Però questa volta rosico, perché ero in 10 uomini Mi bastava un altro giocatore in più Ovviamente nel fantacalcio si sa quanto è fondamentale avere almeno gli 11 giocatori effettivi in campo Che ti prendino anche 2, 3, 4 Però anche con un giocatore che mi prendeva 4 68 a 70, 72 scattava il secondo gol Ho pareggiato, ho pareggiato malissimo e non va bene Per chi ha visto il video della rossa del fantacalcio Youtuber Ci sono state alcune piccole modifiche Perché ho preso Pellegri al posto di Cutrone E ci sono cascato secondo me perché qui forse potrei aver fatto l'errore Però Pellegri di fatto in questo momento gioca di più Avendo Politano, avendo Falcinelli Ieri non mi avevano giocato Di fatto rischiavo quasi di giocare anche lì con pochi giocatori Poi ho preso Fofana al posto di Berenguer Anche lui un attimino più titolare rispetto a Berenguer Che entra sempre dalla panchina E poi ho preso Calabria al posto di Emerson Palmieri infortunato Anche se non ha giocato Difatti questo è stato il problema Su otto difensori Tre hanno giocato, tre E io in campo ne avevo due Quello titolare e gli altri due panchinari Non sono entrati E ringrazio Allegri perché Chiellini dov'era? Benazia dov'era? Manolas dov'era? Widmer è infortunato, vabbè Calabria non l'ha fatto giocare Romulo era quello che mi doveva salvare Dovevo metterlo in panchina, dovevo metterlo titolare Ho sbagliato a mettere tutti questi tre Lasciamo stare Però io speravo che, non lo so, quando La Divendus aveva fatto quel gol Non mettesse piani Io speravo, io stavo quasi urlando Però metti Benazia O metti Chiellini E sposti i barzagli sulla destra E lei di quello Sturaro Tersino destro No? Ha voluto tenere Sturaro L'unico cambio che ha fatto Poi è stato anche Licksteiner Al 92esimo Ma quello non ci interessa Allora Partiamo piano piano Con i voti E dai Non ci pensiamo Lasciate un like per questa serie Che è la cosa più importante Il mio avversario A FAMOK AC Che ora il video andrà in restrizione Solo per aver letto il titolo Nella squadra di Donato Che aveva consigli in porta Anche qui, dico io Tra tutti i portieri L'unico che non prende gol O quasi È stato consigli 6 e mezzo Quindi neanche 6 6 e mezzo Poi a parte il fatto che ora Lui anche se avesse preso 3 voti e mezzo in meno Il pareggio l'avrei stappato Lo stesso Quindi alla fine è un demerito mio È un demerito mio Non aver vinto questa partita Andanovic da me invece Ha preso 4 e mezzo 5 e mezzo Con il gol subito Del resto Dall'altra parte Avevo Sorrentino Anche lui un gol L'ha subito comunque In difesa Lui aveva Strinic E Aleksandro Infatti gli sono entrati Al loro posto Lirola Con il 6 Dovuto all'ammunizione E quel grandissimo Lucioni Che mi ha fatto illudere Con 1 e mezzo Io tutta la partita Sperai che non entrassero Strinic e Aleksandro Alla fine è diventato Tutto inutile L'altro difensore che aveva Era Zucanovic Invece io che avevo A parte tutti i difensori assenti Gli unici che mi hanno giocato Sono stati Acerbi Che ha preso 6 e mezzo Uno dei migliori difensori Della giornata Perché di fatto Il Sassuolo Non ha preso Col a Cagliari E Anzaldi Che comunque Aveva 7 Con il giallo 6 e mezzo Quindi ottima prestazione A centrocampo Potevo fare bene Perché di fatto A parte il 5 e mezzo Di Chiesa E lui invece Mi rispondeva con Amsic Gli ha preso 7 e mezzo Con l'assist Però aveva anche Castro Che gli ha preso 7 e mezzo Un centrocampista Ottimo Che per bonus Veramente vi straconsiglio Se lo avete Di schierarlo Anche quando Gli avversari Non sono troppo Semplici sulla carta Gli ha preso 7 e mezzo Io avevo Verdi Che mi ha preso 10 e mezzo Se lo mettevo Nell'altro pantacalcio Riuscivo anche A non perdere Perché di là Ho perso Prima sconfitta Di fatto Lui aveva Cataldi 4 e mezzo Quindi ragazzi Tra Sensi Tra Cataldi Che sto dicendo Sensi ce l'ho io Tra Cataldi e Lucioni In 2 Gli hanno preso 6 E io sono riuscito A pareggiare Va bene Sensi ha preso 6 e mezzo Invece quindi Già qui si vedeva Che comunque Poteva andarmi bene Il suo di Francesco 6 e mezzo Il mio quadrado Con l'assist Ha preso 8 Ma chi poteva fare L'assist A Higuaín No A Dibala No Tutti gli altri No A Mandzukic L'unico attaccante Juventino Che aveva contro Infatti io Per la prima volta Si ho esultato Perché ora il fantacalcio Va bene che è importante Però la Juve Molto di più Mi ha segnato E quindi grazie Mandzukic Però da 7 a 10 Quindi preciso Per riuscire A perdere di fatto A pareggiare Vabbè la partita Io con ragazzi Le sconfitte E parecci Le prendo quasi allo stesso modo Anche se non è così Io invece come attaccante Avevo Pazzini 5 e mezzo Anche lui Veramente degli attaccanti Che non riescono A andare in gol Tra Pazzini Tra Borriello Tra Politano Falcinelli Siamo messi veramente Veramente Male 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 Lui aveva anche Immobile Che da 6 e mezzo Comunque è andato a 7 e mezzo Per l'assist Che comunque L'unico giocatore della Lazio Insieme a De Vrij Che è andato in gol Che gli ha preso Un voto ampiamente Sufficiente anche con l'assist Io avevo il Gallo Che insieme a Verdi Mi ha fatto gol Quindi da 7 È scattato a 10 Con il più 3 Lui dall'altra parte Aveva Ider Che comunque Uno dell'Inter Che prende la sufficienza Era raro prenderlo Oltre ai cardi Gli ha preso 6 Con il cartellino giallo E io avevo Pellegri Che da buon Di fatto 15enne 16enne Mi ha preso 4 e mezzo Con il giallo Attaccante In panchina Che avevo Giorginio Avevo Giorginio Che al 92esimo Tira il rigore E fa gol E mi fa rosicare Perché prende un bel 9 In confronto a Chiesa Che mi prende un 5 e mezzo Perché l'ho voluto schierare Se gioca contro la Juventus Anche per questione di tifo Non lo so Ragazzi Continuo a ripetere Che questa giornata Alla fine è stata mia colpa La classifica nel nostro girone Vede Zelo A 6 punti Distaccatissimo Perché comunque Dopo due giornate Ci sono soltanto Gli Amendola A Brader E Green Gli Amendola Che ho affrontato nella prima giornata A 4 punti Ma ci sono 3 squadre A 2 punti E 4 squadre a 1 Diciamo che In queste prime giornate Guardato un po' il calendario Sia gli Amendola A Brader Sulla carta Secondo me E questa formazione Che ho affrontato Non sono le più forti Di fatto Gli avversari più forti Li incontrerò un pochino più avanti Quindi mi dispiace Arrivarci in questo momento Con due partite Due pareggi Siamo solo agli inizi Però comunque Ci voleva adesso una vittoria Ed ho fatto un errore io Paga L'inesperienza del fantacalcio Paga Non essermi forse informato Benissimo Perché dovevo sapere Che almeno uno tra Manolas Benassia e Chiellini Non avrebbe giocato Mettendo Romulo Che comunque viene sempre schierato Purtroppo ho sbagliato per questo Lui almeno Ce l'ha fatta giocare In undici Anche con quell'uno E mezzo di Lucioni Gli ha sempre fatto punti importanti Io invece Anche con un quattro Me la sa ricavata A vincere Ragazzi niente Anche se su Youtube In questo momento Ci sono dei problemi Lasciate like Se voi ci siete rimasti Mi raccomando Proviamo ad arrivare a 1000 like Per questa serie del fantacalcio Che voglio portare insieme a voi Cerchiamo di non sclerare Di non sclerare Perché anche nell'altro fantacalcio Ho perso 68 e mezzo A 73 e mezzo Con lo scarto di 4 gol Quindi con il signor Verdi In panchina Vabbè lasciamo sta Prendevo 5 punti in più Se lo mettevo al posto di chiesa Piccoli dettagli Quasi l'avrei vinta Contro la capolista Dell'altro fantacalcio Noi ci vediamo in un prossimo video Ragazzi Spero vi piaccia questa serie Supportate la città Vernecchio Perché ancora ve lo ripeto Tavernecchio Tavecchio Perché sono tutti italiani Non per essere razzista Infatti ho anche peso pofana Quindi un po' di conto senso Per questo Bella ragazzuoli Porca put***a